eccoci qua amici con un nuovo dongle android che è apparso su amazon mio figlio si chiedeva se fosse un giocattolo perché richiama un po le forme di un'automobilina vedete è grandicello suona a vuoto quindi la plastica non è di buona qualità e secondo me anche un po troppo grande io sinceramente non saprei dove dove collocarlo nella mia auto infatti non credo che lo che lo terrò ha la possibilità come vedete dai simboli di switchare tra carplay e android auto wireless quindi se dovete collegare un iphone con carplay wireless cliccate verso questo qua nel caso contrario cliccate verso android auto quindi non ha non ha nulla ha qui una lucettina di color bluetto ciano lui invece è quello che uso da un anno ormai collega solo android auto via wireless ma lo fa benissimo la forma è più sobria sono mesi che non riceve aggiornamenti ota ma funziona perfettamente nella sua app non ci sono personalizzazioni mentre nella sua app ieri sera ho trovato sia un aggiornamento ota che qualche personalizzazione in più come il cambio del canale del wifi e altre cosette ve la metterò in descrizione una schermata quindi diciamo che lui probabilmente come hardware è un po un po migliore perché appunto c'ha più opzioni ieri sera ho ricevuto un aggiornamento ota li abbiamo visti fisicamente adesso andiamo su android auto wireless perché questo dongle vi potete buttare via il cavo e utilizzare sempre via wireless il vostro smartphone android o carplay ma funzionerà perfettamente come se voi foste connessi con il cavo quindi se avete un iphone vi riconosce collegato un iphone se avete un android vi riconosce collegato un android come se foste via cavo funziona tutto velocemente funziona tutto perfettamente previsioni meteo domani a charme shake a charme shake domani ci sarà il sole con una massima di 27 gradi e una minima di 17 vedete funziona tutto perfettamente quindi sia lui che lui funzionano perfettamente vi metterò in descrizione la recensione sua e la recensione di un dongle che secondo me è identico soltanto che non ha la forma della macchinina ma quella di un ovetto che io ho chiamato fulmine 2 e vi metterò in descrizione anche la recensione del suo del suo gemello la conclusione qual è se volete se avete un telefono android comprate questo a occhi chiusi se invece avete la possibilità di utilizzare anche un carplay o wireless in auto vi serve di comprare questo o il suo gemello che vi metterò in descrizione comunque sia lui sia lui che il suo gemello funzionano perfettamente sono soldi ben spesi e potete tranquillamente comprare quello che trovate al prezzo minore quindi questa automobilina adesso la vendiamo perché a me sinceramente l'estetica non piace ma funziona molto molto bene ciao a tutti